Dal Bargello, che vuol dire il capo della polizia e da due guardie, era una scena in tutto lo spettacolo, il Bargello era un bellissimo ruolo, perché era quello che arrestava le chiude ed era recitato da un bravissimo Antonio famoso nel quartese. Felice con una Pasqua perché essendo un caratterista lui aveva ovviamente il mito delle parti cosiddette staccate, cosa sono delle parti staccate? Dovrai in una unica scena in tutto lo spettacolo facendo un bellissimo ruolo, per cui alle prove lavori una volta alla settimana quando ti va male e tutti gli altri giorni sei libero, poi ti fai la tua scena, ti piri il tuo applauso di sortita, ti fumi il tuo sigalo e in quest'anno mandato il Bargello mi parte staccato. Peccato che l'arresto di Arlecchino non veniva mai vero e quindi Squazzina la provava per il gioco. Allora si racconta che a un certo punto delle prove filate Gianni Fezzi, il loro aiuto regista, arriva in ritardo e passa dal palcoscenico per andare in giocattia e vede nel buio del palcoscenico al vizio, su una sedia al buio qui parla, aveva due baffoli, due bustacchi finti, aveva il cappello Napoleone. Pericole, cosa sta a provare? E cosa vuoi che si sa? L'arresto d'Arlecchino, porco! Da quel giorno ogni volta che c'è una scena che non viene, l'arresto d'Arlecchino. Grazie! 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 Grazie!